10 5 4 3 2 vai destra 5 destra 4 sinistra 5 e la fermata sinistra 5 e il muro destra 4 aspetta sinistra 5 e il muro destra 4 subito sinistra 4 apri vai sinistra 4 apri vai 100 destra 4 meno subito sinistra 4 meno subito sinistra 4 meno e la zebra destra 4 meno subito sinistra 3 3 accenno destra subito destra 5 e alla casa sinistra sinistra 3 lungo alla zebra destra 3 giude 2 al muro sinistra 3 meno e destra 3 meno subito a triangolo sinistra 4 destra destra 4 destra 3 e sinistra 4 sinistra 4 e la rail sinistra 3 subito a destra 3 vai tornante sinistro tornante sinistro destra 4 destra 3 subito a sinistra 3 e la zebra destra 3 molta attenzione giude destra 2 questa è questa è destra 2 subito a destra 4 in sinistra 3 in destra 3 in sinistra 3 in destra 4 questa è destra 4 e la colonna rossa sinistra 3 e destra 4 e allo specchio destra 4 subito a sinistra 4 vai subito a sinistra 4 vai 100 e a rail destra 5 vai 100 destra 5 vai 100 e la zebra destra 4 la lunga subito dai un'azione subito in funzione sinistra e destra 3 poi giude a 3 l'argo non si ce ne vai in funzione non si ce ne va no perfetto dai dopo dosso in funzione sinistra questo è un'azione della tele come prima pelle pelle vai destra 5 100 vai direla eh sul posto 3 vai 150 sinistra 4 100 vai in questo caso sinistra A 4 vai 100 Dopodosso Dai sinistra subito Sinistra 3 Sinistra 3 Esci pressi Destra 3 meno All'olivo Destra 3 meno vai 100 A campanile Sinistra 3 Attenzione Sinistra 3 scende Vai 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 Sinistra 3 2 Questa è 50 vai E sinistra 4 Questa faccio Nella croce Tornate destra Subito Sinistra 5 Sostate destra Subito Sinistra 5 Vai 30 E la vai Tutta destra Di sinistra 2 Sta a sinistra E sinistra 5 E alla casa Sinistra 5 Nella casa destra 3 Giù del 2 3 Giù del 2 Due teppi E al cipresso Di sinistra 3 E non è bene Sinistra 3 scende E destra 5 E a volte Sinistra 2 Vai 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 3 Vai va Kai 50 Vai 50 Vai 50 Destra 4 50 Vai του Po Dossu Depo desu DESU 5 Dove E a cartello Attenzione Impressione e destra è il 1, sinistra 4 e destra 4 è lo spazzo, sinistra 4, vai! 30, destra 5, vai! 30, 50, vai! facci presso, a centro, sinistro, 100, vai! e al filo rosso, attenzione, destra 4 bravo, così via destra 4, e sinistra 5, vai! 30, molta attenzione, dosso diritto e sinistra su monte sinistra 3, meno mette il 6 e 3, meno subito, destra 4 vai, alla pianta, destra 4 punto vinto, sinistra 3 e molta attenzione tosso dritto, scende sinistra 3, 2 tempi vai, vai, bella! sinistra 3, 2 tempi e al cartello, destra 4 il virus è alla casa destra 4, 2 tempi e al triangolo, sinistra 5 fine 1, sinistra 5, stai sinistra sento qui, eh! dai, la rail, destra 3 subito, sinistra 3 in destra 4 e alla casa, giù di 3, meno lungo giù di guida, è meno lungo al pallone sinistra 3, che non scende in destra 4, e attenzione destra 4 e attenzione, uscicani, entra, destra in destra 4 destra 4 alla zebra destra 8, qui aspettatevi più punto vado vai, 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 vai sinistra 3, all'albero inversione destra, stretta 8, qui e inversione sinistra vai, 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 vai destra 2 questa 100, vai attenzione attenzione, attivino destra 3 taglia, 50 destra 3, eh! al rail sinistra 4, meno destra 4 bianconte, sinistra 2, sale sinistra 2, sale, vai, 30 al rail destra 5 e al triangolo destra 5, vai 10 al rail destra 5 attenzione, fine sull'osso ma ricordi? vai, alla casa destra 4, lungo e alla zebra sinistra 4, meno e destra 4, meno e la zebra, attenzione, tornante sinistro, apre e la zebra, attenzione, tornante sinistro, apre attenzione, destra 3, giù dei 2, vai 30 vai, vai, vai zebra, tornante sinistro, l'arco subito, sinistro l'arco, eh! subito, tornante destro, scende tornante destro, scende, apre l'uscita e la zebra, attenzione, tornante sinistra 2, apre con la zebra sinistra 2, apre con la zebra sinistra 2, apre con i cartelli sinistra 4 e alla zebra, destra 3, meno apre, diventa 5 3, meno, apre, diventa 5 e al marrone sinistra 5 subito, destra 5, lungo, tieni e ai due incroci sinistra 5, sale sinistra 5, sale e al blu, attenzione, sinistra 3, su, dosso sinistra 3, sinistra 3, su, dosso c'era di 4, bravo tra il destra 5, attenzione, giù dei 4, meno e la zebra sinistra 3 subito sinistra 4 è questo, è questo, eh 10, nella casa sinistra 5 e alla zebra, attenzione, torrata destro è questo bello, bello, sinistra 5, giù del ponte 3, due tempi vai giù dei 3, al ponte, due tempi vai, 30 all'azione sinistra 5 8, senza sinistra e al blu, attenzione, inversione sinistra subito, destra 2, c'è ruolo male, attenzione qui bello, sinistra 2, scende e destra 5, vai, destra 5, vai scelto, attenzione, alla fermata shinghan, entra, destra entra, destra vai, 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 destra 5 è la staccionata, su destra 4, vai, 30 destra 5, taglia, al giallo, shinghan, entra, sinistra sinistra vai, 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 mezzo, destra 5, vai, 50 e alla zebra, destra 4, meno e alla botte sinistra, 4, meno e al muro, sinistra 5, scende, vai, 30 e attenzione, alla zebra, destra 4 lunga, diventa 3 non giù che è, lunga, diverta, 3 e alla zebra ottimo sinistra 3 e alla zebra di nuovo sinistra 3, meno lunga subito, destra 3, meno destra 3, meno in sinistra 3 e destra 4, lunga, lunga che è la zebra giù di 2 zebra, giù di 2 e al triangolo sinistra 4 e alla zebra destra 3 subito sinistra 4, giù di 3 4, giù di 3 30 su fine sinistra 2 sinistra 2 buon botte